ciao a tutti amici di androidblog.it oggi proviamo la videocamera del yashi ipad 3g una videocamera da 5 megapixel in grado di catturare video fino a 1080p vediamo un po la messa a fuoco automatica completamente assente mentre è possibile farlo in modo manuale proviamo un controsolo in questa bella giornata vediamo come si adatta un pan veloce e proviamo anche a zoomare in modo manuale fino a 2x la qualità rimane più o meno la stessa senza troppi cali